... Questa mattina è stato inaugurato il Comune di Rivarolo, il nuovo, anzi il primo, defibrillatore per la città. Sì, questo è un progetto che è nato già un po' di mesi fa, grazie ad una serie numerosa che ringrazio di sponsor, è stato inaugurato il primo defibrillatore che verrà posizionato nella parte esterna sotto i portici di Via Ivrea di fronte al Comune e è il primo passo per mettere in sicurezza anche dal punto di vista sanitario la città. Altri defibrillatori, grazie sempre alla degenerosità di tante persone, tanti cittadini rivarolesi, verranno successivamente posizionati in punti altrettanto strategici della città, tipo la stazione ferroviaria piuttosto che la piazza del mercato. Se ci saranno le disponibilità di ulteriori sponsor sono previsti anche ulteriori defibrillatori nelle frazioni. Perché un defibrillatore? Perché oggi, lo dice la scienza, lo dicono le statistiche su 60.000 arresti cardiaci che avvengono in un anno in Italia, con l'utilizzo di un defibrillatore almeno la metà, almeno 30.000 persone possono essere salvate. Ecco perché questo progetto che è presentato oggi a Rivarolo, che è il titolo che si chiama Cuore in Comune, è la centesima città in cui vengono sistemati questi apparecchi che sono apparecchi salvavita. Noi naturalmente ci auguriamo di non doverli mai usare, ma sappiamo che da oggi la città è un pochino più sicura. Nel progetto sono compresi anche i corsi per i cittadini che vogliono farlo? Nel progetto sono compresi i corsi per i cittadini che vorranno farlo. In farlo basterà comunicarlo all'ufficio politica e sociali della nostra città e a settembre verranno fatti i corsi. Attualmente alcune persone sono già formate. Successivamente la ditta garantirà nel corso dei sei anni di contratto ulteriori corsi di formazione, ma la cosa più importante è che l'azienda che si è fatta carico di posizionare questi totem con il defibrillatore inserito all'interno farà anche una continua manutenzione per far sì che l'apparecchiatura sia sempre perfettamente funzionante. Grazie. Grazie. Grazie.